L'ordinanza del commissario per la ricostruzione Giovanni Lignini, quella più importante, è quella alle mie spalle, guardate, la ricostruzione contro il disordine amministrativo. In realtà Papa Francesco ha spiegato bene gli ammannanzi, andiamo avanti, cerchiamo di proseguire attraverso la ricostruzione. Sono passati dal 2016 sei anni, qui a collaterrato ancora tutto è rimasto praticamente fermo e ci sono invece queste palazzine Ater che sono in balia dei vandali, ma soprattutto dei ladri. Guardate queste immagini, le porte ovviamente erano aperte, abbiamo trovato la disponibilità totale della mancanza di controllo, siamo arrivati e c'erano le porte sfondate, al primo piano, al secondo piano, al terzo piano. Qualcuno ci è passato, ha portato via quelli che erano i ricordi, quelli più preziosi, quelli che sono stati lasciati lì, forse anche per il cambio delle stagioni, sono passate tante stagioni. Le possiamo contare quattro per ogni anno, ormai si contano attraverso il cambio delle maree, della trazione lunare. Qui a collaterrato, oltre al nuovo hobby, quello di rompere i vetri, si viene qui, si ruba e si va via. Arriverà un giorno, tra qualche anno, in cui non ci sarà più nulla da rubare e forse inizierà questa agognata ricostruzione.